ecco ciao a tutti ragazzi siamo rabbit e molly e oggi faremo il gioco della ruota disgustosa che cosa consiste questo gioco mi chiederete voi in che cosa consiste tu lo sai eh sì io so che molly è andata a fare la spesa e quindi sa tutto quello che c'è qui dentro e io non so un bel niente qui dentro in questa scatola ci sono un sacco di cose disgustose ovviamente commestibili io e le reby dovremmo girare la ruota colorata famosa aaa ma cosa c'è in mezzo aaaah ci sono un sacco di cose disgustose allora il primo dovrà girare la ruota e da bendato dovrà scegliere mangiare se scegliere dovrà mangiare il colore che gli è venuto nella ruota ok però inizia te perchè io non so niente cosa c'è qui dentro ok va bene comincio io voi ragazzi lasciate subito un like perchè se lasciate un like vi portiamo un sacco di questi molly per natale uno voglio io quello la reby è viziata perchè è suo lei se l'ha già quanto è viziata la reby? sotto nei commentini non è vero perchè adesso l'altra volta te l'hanno scritto a te mi devi scrivere che sono viziata dite la verità è molly il viziato ovviamente io sarò bendato perchè il colore che verrà non posso vederlo me lo darà la reby siamo pronti via vediamo vediamo che colore che colore è? avete visto ragazzi che colore? ragazzi che colore è? non glielo diciamo molly che colore è? comunque molly adesso io dovrò scoprire cosa c'è qui dentro perchè per dartelo lo scoprirò e cosa c'è quindi? quindi ragazzi apriamo insieme questa scatola che ha comprato molly cosa c'è? eeeh ma che schifo ma senti che puzza io non usavo mai questa roba che schifo scopertelo che faccio questo gioco dai dammi il colore vabbè adesso tocca a te quindi la pazzo dammi il colore che cos'è? era ok guardate ragazzi che cos'è? dammi che schifo dammi che cos'è? ma puzza che cos'è? ragazzi ma pesa pure eh ma mi fai iniziare? eh no apri la bocca no così ok allora aspetta fa piano però eh ahhhh io non lo faccio mai mai dai prova non male che è capitato a te che cos'è? allora apri bene la bocca molly eh via mastica mastica che schifo un broccolo broccoli l'avevi comprato perchè volevi che venissi a me e invece te lo sei mangiato mangia mangia qua io ho dei broccoli ma non è un broccolo è un cavoletto di bruxelli mangia tutto che schifo ma da crudo mangia tutto mangia tutto ma questo cosa ma poi si gatte è grosso comandante che a testa ma poi da crudo ma che schifo ma puzza ma cosa ti mi metto di comprare? ma la bollita è molto buona fa anche molto bene ok ragazzi tocca a me aiuto vendati non mi venga qualcosa di schifoso come quel broccolo gigante vendati vendati ok dove sei? qua devi girare la ruota qui vai 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 oh però il colore giusto ragazzi ditemelo se bara eh non baro vai gira vediamo che colore è? che colore è? oh ma no che colore è? ma dai che colore è? ragazzi l'aria abbia avuto molta fortuna che colore è? ecco il colore apri la bocca e se damelo nelle manine no non posso dai su ti è andata a bere è poco è poco è poco eh? si sei pronta? poco poco ma è acqua sei stata anche fortunata infatti l'acqua è buona ma scusa che colore era? eh eh azzurro molly l'acqua è azzurra secondo te allora questo è di azzurro guarda fammi spiegare fammi spiegare non ho trovato un colore come azzurro di una cosa commestibile quindi se guardiamo l'acqua un pochettino azzurra dai sì che in questa parte qui dove c'è lo scorcio no guarda un po' l'acqua è azzurra dai ti faccio vedere io che l'acqua non è azzurra no no non mi do vai vai molly tocca a te tocca a me ma quello è il mio gattino eh vabbè lo uso io ok? vuoi questo dai uso questo ahahah ok vai gira gira a guardare eh li 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 eeeh aiii vediamo un po' che cosa è venuto? eh ma cos'è? è già venuto? no no va benissimo ma che cos'è? allora ragazzi avete visto che colore è? guardate eh che colore è? aspetta che colore è ragazzi ditemelo no no ragazzi non si dice niente adesso ci penso io ecco adesso che cos'è? aaaah cos'è? che cos'era? bene molly apri bene la bocca piano eh no apri grande piano? però piano? si però apri molto grande no però prima me l'hai buttato tutto così vai apri grande grande ho detto grande ho detto grande ecco ma grande ma dai mi hai messo una carota ma porca miseria mi hai messo una carota intera nella bocca ero stata anche buona perchè potevo mettertela da questa parte che sfido lì sa anche la torre ma già mangiala ma l'hai lavata almeno ma che schifo ma non l'ho lavata le hai prese tu le cose qui dai scherza la lavata su puoi mangiarla dai si aio ma mi diventa un corniglio sono un corniglio lascia questa carotaccia cambio posto spostati 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 aspetta dai hai messo 10 vai il gattino è qua è volato il gattino prendiamo la ruota oh ragazzi non fatelo barare vai gira questa ruota qui vediamo gira 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 aiuto aiuto vediamo 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 vai di che colore è che colore è oh è venuto quello che colore che sfortuna chissà perchè è venuto quello quale eh ecco siamo pronti che cos'è avete visto ragazzi cosa è venuto ditemelo che cos'è è una cosa molto buona che fa molto bene avete capito ragazzi che cos'è il mare apri la boccuccia eh certo arriva all'aeroplano aspetta vieni più in qua che c'è la ruota che ti copre vieni arriva all'aeroplano dagli un morso 3 2 1 vai che cos'è che cos'è una melanzana che schifo ha lasciato i denti ha lasciato che schifo ma vuoi sapere la cosa divertente? è che quando stava girando io ho fatto così no a non fare a non fare a non fare a non fare questa cosa ragazzi è una melanzana allora adesso ragazzi per penitenza scrivete tutti nei commentini che molly è un barone no 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 scrivete che molly è un barone dai guarda mi metto questo sei contenta nooo tutto colorato come il colore che dovrei scegliere e poi mi metto anche questo e poi mi metto anche questo ok eh si e poi ecco vai ecco ci sono ah mi hai messo il dito nel naso scusa tira un topio giù vado eh vai gira 3 2 1 go e non barare uuuuuh non barare sei buono eh ma no ma l'abbiamo già fatto allora rigiro vai gira 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 cos'era venuto adesso oooh ha 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 bello questo cos'è ahhh sei pronto ah piazza allora ragazzi adesso abbiamo una cosa molto buona che piazza a tutti che cosa guardate mmmm piazza a tutti hai detto no? si piazza a tutti è buonissima è molto salutare e ti dice ciao ciao hai detto che piazza a tutti eh vai mmmm piazza a tutti ah gli do un morso si non me la mettere in bocca gli do un morso vai ok dagli un morso piazza a tutti ho detto ahhh 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 ma che morso è questo? ma che cavolo è questo? questo è il mio morso ahhh una cavolo di rapa una cavolo di rapa che schifo mi ha dato tutto in bocca hai dato tutto in bocca che pompa dai che fa bene ahhh cavolo però era buona era buona nooo nooo hai dato la rapa testa di rapa nooo rabbi guarda la mia spada ma bella la tua spada tocca di nuovo a me aiuto tocca la rabbi gira la ruota yeah yeah gira la ruota yeah yeah gira gira sta continuando a girare ma quanto gira è venuto l'ultimo colore che mancava non vedo che colore è? all'apparenza ragazzi può sembrare quella cosa che non posso dire che cosa? ma dilla ma che cosa è? può sembrare questa ma non è questa eh ma cosa è? 3 2 1 dagli un morso vai ahhh ma che cos'è? ma ma infatti una melagrana ma è buona però se me l'apri lì magari perfetto no la spiaggia di molì ma ragazzi sapete perché si chiama melagrana? molly hai mai mangiato la melagrana? sapete perché si chiama la melagrana? perché è nata da una mela più il grana no vai via ecco dai gira la ruota arriviamo allora adesso visto che molly è un parole piacciamo venire questo bellissimo è venuto è venuto l'ultimo colore l'ultimo colore ok che fortuna allora ma è buona almeno? è pozione di mago pozione di mago ma è una bevanda quindi? si è una bevanda quindi apri bene la volta di che color è? eh non te lo dico di più piano eh? apri wow ma è buona ma è buona ma è duro ma è power aid ma è buonissimo ragazzi non mi piace il power aid è buono è buono il power aid dopo un'intensa giornata si vuole proprio quel power aid ah adesso ti piace eh? ragazzi abbiamo finito tutto non c'è più niente dentro una scatola magica si la scatola magica che aveva comprato molly piena di schifezze fa una putz incredibile questa scatola comunque sia per oggi è tutto dalla Rebbi e da molly ci vediamo il prossimo giorno con un nuovo bellissimo video e voi lasciate tanti like e tanti commentini qua sotto ciao ciao